Quando ho conosciuto Dagui per la prima volta, anzi l'ho conosciuto di persona in questa occasione per la prima volta, ma l'ho conosciuto qualche anno fa con questo testo, che è anche un film, Come un uomo sulla terra. Sono quindi emozionatissima, era un film che io ho visto tantissime volte, che ho fatto vedere tante volte ai miei studenti, e sono quindi particolarmente emozionata oggi di essere qua con lui e presentare questo suo nuovo lavoro. Dagmawi viene da Addis Abeba, dove ha studiato giurisprudenza, nel 2005 parte, senza dire nulla al padre, parte alla volta dell'Italia e arriva a Lampedusa con un viaggio che è molto più drammatico di quello che lui immaginava probabilmente quando stava ad Addis Abeba. Lui arriva ad Addis Abeba, arriva a Lampedusa e vive in Italia grazie alla protezione umanitaria che poi ha ricevuto. Si occupa di mediazione linguistica per l'associazione Asinitas Onlus, si occupa di scuole italiane per stranieri per richiedenti asilo, e poi dal 2010 collabora con l'archivio delle memorie migranti di Roma. La cosa che lui fa è promuovere l'autonarrazione da parte delle persone di origini migranti. It's an honor for me e a privilege to introduce to you Dagmawi. e Daria mette la prima incontra. La prima incontra è stata con il libro che lei ha proposto a una studenti, e anche il film che lei ha proposto a una studenti, e lui è venuto da Addis Ababa. e lui ha lasciato la città in cui lui ha lasciato un po' di niente, e lui ha lasciato un po' di niente e lui ha lasciato un po' di niente e lui ha lavorato come un po' di niente. e lui ha lasciato un po' di niente e lui ha lasciato un po' di niente. Io vado direttamente a farvi vedere solo un trailer. e vi mostrerò un trailer del ultimo documentario che ho fatto. E se non ho un subtitle inglese, penso che sarà chiaro per voi capire, perché è una clip短a. E poi parleremo dei miei punti. Grazie. Da noi, in Africa, il Grillo era maestro nell'arte di usare la parola. Il Grillo era consigliere del re. Ebbene, il figlio del Grillo era il Grillo del principe. Nel corso dei secoli abbiamo vissuto così. La mia famiglia è inizialmente a un contatto. E' la mia famiglia. E' la mia famiglia è inizialmente. il è possibile sia inizialmente a una famiglia. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Una bellissima giornata, erano le 19.45, aspettavo il tram, un uomo italiano, sui 30 anni, da testa razzata, si volta verso di me e mi dice, qui c'è qualcosa che non va. Non, 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 non. Io vorrei seppellire questa storia e rinascere. Signore e signori, attrezzatevi per un lungo viaggio nel mondo spesso nascosto dei migranti. Arpa d'orti fatidici vatti, perché muta dal salice penti. Allora, ecco, magari parto dal film che va a pensiero. Forse molti di voi conoscete Giuseppe Verdi e la lirica. Io l'ho scoperto in modo molto strano. Non conoscevo e non apprezzo, non ascolto la musica o la lirica. Mentre raccontavo le storie di Mohamed Ba, di Sheik e di Mor, che sono storie, l'unica cosa che li accomuna è essere senegalesi e avere avuto un'aggressione razzista nei loro confronti. La musica di Giuseppe Verdi io l'ho scoperto andando a fare la ricerca su Google per informarmi cosa succede e se sono successi queste aggressioni nel passato. Quindi mi informavo e mi sono trovato in questo comizio della Lega Nord che cantavano va a pensiero ed era straordinario. Nonostante il contesto, quella musica mi ha preso e ho detto come cavolo hanno fatto a trovare questa musica così potente e così bella che attira. Sono andato a fare una ricerca sulla musica e mi ha stupito di scoprire che non c'entra niente con la Lega, né la storia né il testo. Quindi ho voluto riappropriare magari che una storia che è stata tralasciata o trascurata dagli italiani o data per scontato alla Lega Nord riprendendola e dandola un significato che magari ha più senso perché parla della schiavitù come Mohamed Bar parla della schiavitù di allora. Mi fermo. Allora, I would like to start by the music that I chose in my documentary I guess that you all know Giuseppe Verdi and what's the relation between Giuseppe Verdi's well-known music and the documentary and the stories of these three people who have been the victims of violent attacks and well the thing is that I once found myself in a sort of meeting of extreme right wing political party and I listened to this music because they have adopted this music they usually they use this music for the meetings and I said what's the connection between an extreme right wing political party and Giuseppe Verdi's Va Pensiero and then I just which is about slavery for instance and so I wanted, I greatly wanted to recuperate this song to give it a new meaning. Ecco, il punto qui è magari la canzone, il testo di Verdi parla degli ebrei che sono stati in schiavitù in Babilonia quindi che sognano di ritornare nel proprio paese questo è l'Elega Nord, lo canta perché c'è una storia di Verdi o dell'all'epoca quando questa musica, questa lirica è uscita l'Italia era sotto l'occupazione dell'Austria, Ungaria sì, Austro-Ungari e quindi quello sarebbe preso come l'inno nazionale dell'Italia di allora è per quello che loro rivendicano questa musica ma il testo parla della schiavitù come Mohamed Ba, l'attore senegalese porta in scena della schiavitù, della cultura del sogno di riavere quella storia persa dell'Africa nera ok, the connection again between my documentary and Verdi's music is that of course Verdi's music is about and the text is about slavery it's a history and it tells about the story of slavery and in particular the slavery of the Jewish with the way enslaved and while the new meaning within the documentary is the aim of these actors and those migrants living in Italy to lay claim to their dreams dreams of freedom Allora, vado su perché una delle cose è perché facciamo documentare a cosa serve è una domanda che spesso mi chiedono a cosa ci serve raccogliere i racconti e poi trasformarli in una forma artistica e quanto siamo fedeli alla narrazione non possiamo essere puri ovviamente perché è sempre una interpretazione di chi assiste a quel racconto io una delle cose per avvicinarmi verso il racconto è la lingua della narrazione o della raccolta delle storie cioè la persona che racconta deve utilizzare la lingua in cui si sente più comoda a suo agio So what's the aim of realising of creating these documentaries well the aim is of course to tell stories and to transform them in artistic products but the problem about this process of transcodification is how true are we to the tales do we reproduce them faithfully and also the storyteller in some sort of way has to feel at ease so has to use the language that he or she wants to use l'altra cosa che ci tengo molto è il tempo il tempo che dedichiamo per ascoltare non solo arrivare perché questo parte sempre dalla mia esperienza personale il mio fare documentario non parte da un sogno di infanzia io mi sono capitato in questo paese o per caso e mi definisco anche un documentarista per caso e mi sono trovato a scoprire questo mestiere che mi avrebbe servito come uno strumento come una penna cioè per descrivere quello che vorrei dire al pubblico alla popolazione al popolo italiano o anche ai miei concittadini it is sort of by chance that I ended up here in Italy in some way and it is again by chance that I started to create documentaries and the reason why I do them is that for me they are a means to communicate not only with the Italians but also with my let's say with the people coming from Etiopia as well Allora in tutto questo è anche una lotta per uscire dall'essere l'oggetto della narrazione essere responsabile e un soggetto attivo di quello che dico cioè io devo parlare con una consapevolezza ma non solo concedere una storia mia a diventare una testimonianza ad uso magari tutt'altro che un'intenzione mia quindi essere consapevole è fondamentale quindi questo da questo punto di da questo da questa idea che che dicevo anche prima dalla lingua del tempo che si dà e soprattutto la costruzione di fiducia che si creano tra chi raccoglie la storia e chi la narra ecco la fiducia reciproca che si creano ok in during the process of creation of these documentaries it is important for me to be an active agent of narration another important issue it is also the reciprocal trust between those who provide us with the stories and the public as well those who are going to listen to the stories in che in che modo penso che questo può essere superato e il coinvolgimento di chi quando si costruiscono le storie ovviamente una è la fiducia la seconda è la restituzione di quelle storie stesse trasformate o non trasformate in maniera artistica però la restituzione è fondamentale a chi ha partecipato nel racconto non so se non solo è molto importante ma è anche importante in qualche modo involve also those who have provided the original stories detto questo in questi anni sull'immigrazione tante cose sono state raccontate e più vivo e più mi accorgo che mancano le storie oltre al dolore in cui si trova l'immigrato cioè è talmente incredibile il male che uno ha vissuto o vive per far allontanare quella persona che racconta dal pubblico cioè non si è medesima nel protagonista o nel chi sta raccontando quelle storie lo lo faccio più chiaro forse per avvicinare un pubblico è importante che si parli al di là non solo il dolore ma oltre il dolore c'è la vita quotidiana o il sogno o il passato sono quelli che descrivono o che cercano un po' di completare la persona perché quello che vive l'immigrato io lo penso e lo considero come una parentesi della sua vita non è la fine perché sicuramente cambierà la sua situazione non sarà sempre così non è nemmeno il passato perché non lo era non ha vissuto in quel modo quindi questa parentesi non dobbiamo soltanto cioè per poter avvicinare per poter sensibilizzare o far capire la persona o completare l'umanità bisogna cercare di raccontare fuori anche da quella parentesi che io descrivo limitante e vittimizzante spesso in order to engage fully engage the audience it is important not to limit the documentaries to the experience of pain of physical pain of sorrow but it is also important to give the audience the feeling of immigrants everyday life in order to avoid that they pigeonholed in the experience of migration the experience of pain and to to right Ecco, facendo questo, secondo me, io devo trovare, riconoscere quella persona che mi racconta una parte della sua storia. Essendo un essere umano devo anche emmedesimarmi in quello che ascolto, potrei anche essere io, non è per forza l'altro che subisce quella situazione. Questo è fondamentale perché se io non mi ritrovo nelle storie che vengono raccontate e sono talmente lontane dalla mia situazione, cioè il passato soprattutto descrive la persona che c'è davanti, che racconta la storia. Si sta riducendo, le storie dei migranti si stanno riducendo a volte anche a spot, cioè a usa e getta. Mi preoccupa anche questo fatto di non dare abbastanza tempo nel racconto, cioè anche far abituare le persone di ascoltare. Ecco, l'ascolto manca e il tempo manca. Per non appesantire un racconto si cerca di velocizzare e non si acquisisce niente. Nel momento in cui cerchiamo di... perché la maggior parte dei racconti vengono spesso strumentalizzati in modo tale che non capiremmo mai una persona o individuo, o non ci lasciano dei segni anche in quello che ascoltiamo. Questo non so se si capisce. In order to achieve this result, I mean the engagement of the audience, it is important for me to fully understand the person I'm telling the story about. So I need to find points in common between his or her experience and my own experience. And in order to achieve the result, I mean time is an important element because I need to devote the necessary time to their stories. While what I see around me in other documentaries is that the migrants life narratives are sort of reduced to the time of an advertisement. They risk becoming sort of advertisement rather than real stories. Are there any questions? How are you financing yours? No, no, scusi, scusi. Come fa per trovare soldi? Lei sarà la co-regista nel prossimo racconto che stiamo cercando soldi, ma è difficile. Quindi non sappiamo come troveremo. Allora, sono tutti auto-produzioni. Cioè i miei lavori, sia come co-regista che anche questo qua, sono fondazioni che concedono o che ci danno un po' di soldi. Sul Va Pensiero avevo vinto un premio di produzione che è l'unico premio per gli immigrati. perché non essendo cittadino italiano io non posso accedere a certi fondi. Quindi questo limita anche un artista, un documentarista o un regista a trovare i fondi. Quindi c'è un premio, multi-AMM si chiama, a Bologna, che dà 15.000 euro a registi stranieri che vivono in Italia. Quindi o tutti sono auto-produzioni o in questo caso solo per il progetto ho vinto un premio. Ok, generally my projects are self-founded and sometimes we get also money from private associations. This is also because as a non-Italian director, he has difficulty in accessing sort of founding and funds that can be on the contrary accessed by Italian directors. But in the specific case of Va Pensiero, he obtained a prize, he won, he was awarded a prize, almost 15.000 euros and it is a specific prize for foreign directors living in Italy. Ecco, questa non è stata tradotta. So by accident, I'm a director by accident like I used to say. No, I haven't. So how did you go? Vado in italiano allora. Io ho fatto una formazione di video a Roma in cui una scuola di italiano dove poi ho collaborato per qualche anno. ero di passaggio in qualche modo, non so se mi sarei fermato a lungo a Roma. Stavo per continuare, cioè ho vissuto a Trappani cinque mesi, Roma un po' di mesi e non trovando niente, mi stavo spostando verso Parma perché c'erano amici che mi dicevano che c'erano più opportunità di imparare la lingua e altre formazioni. Alla stazione mi hanno chiamato da questa scuola dicendomi c'è il progetto di video partecipato parte dalla prossima settimana quindi non partire più, rimani a Roma. quindi ecco tuttora ho la telecamera in mano da quel momento in poi. Questa è stata una scuola in Roma e lavoravo in una scuola di lingua italiana per gli immigrati. e lì a un progetto di videomaglia in cui si è iniziato a fare un progetto di video. Quindi ho deciso di restare invece di andare a Parma. Yes, I wanted to ask, do people in abit see your courses? yes they did mostly this one which is it's not only me the author wasn't only me but also Andrea Segre e Riccardo Biadene and they saw it's a film that talks about the desert and how the burden that exists while crossing the Libyan desert but many of them that saw the film they went anyway knowing that life could have been at risk if they do that travel so they saw it and in some context also in universities and in my neighborhood so this is one of the way of restitution of the stories that nobody knew what it is traveling in such a way unless unless someone they know give a testimony about it but it doesn't mean that it will discourage the person from going out away and I met a lot of people that they found this film on YouTube and they saw and they recognize me and they tell me that they saw the film and I asked them quickly if how did they decide to go on that on that wave if you if they saw the film so it's not to discourage but to inform a person informed is better prepared to challenge everything so I'm speaking in English La nostra narrazione degli immigrati è una narrazione fondata sulla pietà al punto che secondo questo tipo di narrazione il migliore immigrato è l'immigrato morto è l'immigrato morto che viene più rappresentato di quelli vivi no e questo naturalmente una 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 stortura un po' raccapricciante se vogliamo volevo sapere tu nei tuoi film come come rappresenti come esci da questa da questo tipo di rappresentazione della della pietà questo è molto difficile traduci l'immigrato So the impression we got is that generally the best immigrant seems to be the dead one. The dead immigrant, because the immigrants that get visibility are those who have died. And this is done on purpose in order to engender pity. So what are the means through which you go beyond the stereotype? Because I was born there, I was born there, so it's another discourse. This is, undoubtedly, I can't remove myself from being taken to Lampedusa when I present my films. I'm in my films. I'm in my films, for how I want to move on or move on the narrative and not my biography, it's inevitable that I am always the man who has been in Lampedusa who is trying to make a documentary. Questo è un aspetto che è vantaggioso, non è che mi vergogno, però non posso essere né un campione né un rappresentante di storie. Io rappresento me stesso e come tale dovrei proseguire un percorso che ho maturato nel mio viaggio ma anche nella mia permanenza. E questo è difficile, è difficilissimo. Quando si smarca, da una parte scegliamo le storie individuali, a me mi appassionano raccontare le persone non in modo collettivo, non come massa, non come numeri, ma con nome e cognome e storie individuali. Questo è fondamentale. Se ho risposto bene, è una lotta ed è lo sforzo e la ricerca di poter riportare l'argomento immigrazione in generale a storie di persone che attraversano questo spazio. Ecco, questo è, non so se ho risposto. Sì, è un fatto che ho fatto da l'argomento di esperienza di arrivare in Lampedusa. In un certo modo, è sempre stato un bambino che arrivò in Lampedusa un po' da l'argomento. Quindi, non so se ho risposto di ripresentare, non so se ho risposto di ripresentare e di dare visibilità a storie individuali e personali, invece di cose collettive. Quindi, è questo modo, per esempio, che è la forma di fare la stereotipa. Non ho visto, va pensiero, non so nemmeno di cosa parla, ma col tuo sguardo, hai mai pensato di raccontare un po' come siamo noi? Cioè, questa cosa che ha detto adesso l'ultimo intervento, il migliore immigrato e l'immigrato morto, perché deve, naturalmente, fare pietà. Io, con i miei amici, con coloro che hanno anche attraversato tutto quello che hai attraversato tu e che mi hanno raccontato cose orrende, penso che ho i momenti di divertimento più puro, i momenti di bellezza veramente migliore. Come siamo noi, visti quando voi sbarcate? Perché quest'estate mi è capitato di essere a Lampedusa per qualche giorno e ho visto lo sguardo di qualcuno che riusciva ad arrivare alla guiccia uscendo dal centro e ho visto i loro sguardi esterrefatti sul nostro modo di stare, divertirci, fare il bagno, ascoltare la musica e mi sono sentita appartenente veramente a un mondo strano attraverso i loro occhi. Sarebbe un po' bello guardare quanto siamo strani noi, che a volte mi piacerebbe sapere il tuo sguardo. Sì, ma è una cosa... Allora, è interessante, intanto bisogna avere il coraggio di dire come se... si dice sull'immigrazione senza aver paura, cioè si osa, spesso, no? Perché è un terreno che nessuno ha approfondito, si può provare, si può dire. Male che vada si sbaglia e quindi non è... Però parlare di una comunità, di una società è difficile e quindi io lo sguardo ovviamente in modo ironico ce ne sono tante cose da raccontare. In futuro spero veramente di progetti ne ho, di pensieri da rappresentare in modo molto, molto, ma molto ironico un racconto o uno sguardo verso non per gli italiani ma per gli africani, chi sono gli italiani. Quindi in modo giocoso sarebbe interessante da fare in futuro, sì. Sì, assolutamente. Um, it would be great to be able and to be able to do that in, but, but freely. And I've got my, because it's not so simple to speak about a whole community and, but still I've got some ideas and I guess I would be, I would use a lot of irony in doing that. Bene, grazie. Grazie a te. Felicità. 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 Felicità.